No, no, no. Il G7 è il terrorismo, loro sono i terroristi. I terroristi sono coloro che hanno lanciato 69 missili due giorni fa contro i siriani che continuano a subire la loro guerra e le loro politiche. Tutto l'interesse internazionale di questi ministri che si spostano da una parte all'altra è perché in quei territori ci sono risorse, sono attraversati da condotte petrolifere, sono attraversati da condotte di gas, sono attraversati da interessi economici che servono al capitale internazionale e non alle persone che vivono nelle varie parti del mondo. Siamo venuti qui dalle nostre città, da Pisa, stiamo aspettando. Il fatto che le manifestazioni vengano ridotte dal problema in mondo. Città, centinaia e centinaia di poliziotti per proteggere che cosa? Amai ci difendiamo contro questi. Grazie a tutti.